Siamo arrivati alla centrifuga finale con la Siemens a mille giri mentre la mia madama Samsung e all'ultimo risciacquo e si è deciso di fare i rispetti con il flash ok dicevo siamo all'ultimo risciacquo e siamo prossimi alla centrifuga finale anche con madama Samsung vediamo come se la sta cavando madama Siemens sta bilanciando bilanciata la Siemens si la ha già calcolato mi piace questa Siemens peccato per i livelli bassi guarda che in questa era stata un'entità bella no ma non vogliamo ma non vogliamo i capi pesanti sono sempre critici pieni d'acqua fanno sempre questi scherzi 8 minuti mancano alla fine ma io so solo una cosa che quando è il bilanciamento il tempo rimane bloccato ecco esattamente come fa anche madama Samsung se fatica a bilanciare blocca il tempo no Siemens no 7 minuti va a scalare strano ecco Samsung è passato allo scarico dell'ultimo risciacquo e adesso si preparerà per la centrifugazione finale andiamo a vedere ok piena potenza della pompa di scarico e intanto vediamo qui Siemens che sta continuando a bilanciare tentare di bilanciare adesso ci sarà la gara di centrifugazione vediamo chi la spunterà per prima ah io lo vedo duro ehm purtroppo si però ha raggiunto il limite ok non posso interrompere ai 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 ha raggiunto il limite non posso interrompere sto spiegando ai 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 ehm ma anche Samsung ogni tanto fa queste partenze e parte anche se è sbilanciata a me invece c'è il motore inverter quindi quando parte proprio se parte sbilanciata non si sente non accorgi dopo quando parte fa a me con il motore inverter la centrifuga è più silenziosa quindi anche se ma perché ha fatto questa centrifuga perché ha fatto sbilanciata ehm ma sono gli accappatoi di spugna che se pensano se si mettono male quando sono pesanti sono cavoli amari sta arrivando sta arrivando ma dovrebbe fare in due tempi quindi se la seconda partenza va bene potrebbe farcela si sta fermando si dovrebbe fare la seconda parte ecco Samsung è partita grazie grazie mi stai che non c'è la tara cinque minuti mancano mi stai che questa la fa questa la fa beh in questo caso avendo avendo già alleggerito i capi con la prima parte della centrifuga i capi sono più leggeri quindi dovrebbe farcela un po' meglio a bilanciare stavolta la mia con gli accappatori certe volte fai gli sbilanciamenti ma poi se ne accorge si ferma certe volte mi è capitato Massimo che con tutto l'antisbilanciamento è partita sbilanciata e lo fa anche la mia perché ha raggiunto il limite ha raggiunto il limite dei controlli ma non mi direi che la farà a un certo punto ha raggiunto il limite questa volta è un po' meglio ma più questa è meglio eh sì direi molto meglio dopo quella aia bom 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 e samsung raggiunge gli 800 giri andiamo a vedere cosa ci conta Massimo? ecco qua e siamo a 8 minuti dalla fine del lavaggio centrifuga molto stabile bella bilanciata ottimo veramente torniamo dal FIMENS sono che il tempo è andato meglio purtroppo non è stata risultata la prima parte di METRIC perché poi la nostra città non è la prima parte di METRIC perché poi il tempo di si controlla il finanziamento ha raggiunto il limite di METRIC e la prima parte di METRIC ha raggiunto i 1000 giri che si penso madama Siemens ha finito il suo ciclo di centrifuga adesso eseguirà la fase finale che l'antipiega mentre Samsung come si può sentire nel video è ancora in centrifuga ora sei minuti alla fine io sto cucinando è per tempo ha finito Andrea? Andrea, a presto, a presto, ciao, ma Andrea, 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 Andrea te ne è andato, Faccio capire, Vado a mangiare, Massimo? Si sono qua, non riusciamo a vedere la fase, e alla fase finale mancano 4 minuti alla fine e la centrifuga sta proseguendo egregiamente si si la sto filmando così poi la vedrete quando la carico si si guarda combinazione ho già caricato il primo video noi elencato sulla certo di andato si si è già carica l'ho elencata su l'ho poi l'ho elencata sulla chat di hangout la puoi vedere lì si si tra un po metto a caricare anche la seconda parte la sto salvando ok adesso metto poi a caricare anche la parte di si che ha finito ok la centrifuga finale nella samsung ha finito viaggio all'interno della centrifuga finale in fase di rallentamento e fase di srotolamento ok ok e questo video viene un bel video lungo siamo oltre i 14 minuti massimo si ho appena visto la prima parte eh ti devo dire che è stato un bel lavoro schiumoso anche il tuo eh eh già ma il ciclo jeans è così sempre schiumoso eh magari l'avessi avviata io l'avessi avviata io no l'avviato mi ama ma ma poi perché è una cosa dopo aver messo anche l'avessi avviato il testivo o è l'avessi avviato proprio che fa così eh no è più che altro è il programma jeans che abbastà a livello piuttosto alto quindi per quello che vi ma eh mi sa che esagera anche un po' lei no l'abbiamo cambiato penso che abbia preso lava lava liquido ok ok l'apertura dell'oblò nella samsung è avvenuta chiudiamo qui si tanto adesso adesso tanto stacco la ripeto tanto è finito il lavaggio ok il wash day di oggi è terminato e ci vediamo a una prossima serie di video o un altro video vediamo quale sarà il prossimo argomento nel mio prossimo video ciao a tutti e statemi bene ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti